Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale, oggi nuovissimo video spesa Allora, oggi sarà un video spesa diverso dal solido perché prepareremo insieme il menu settimanale anzi in realtà è il menu bisettimanale perché ho preso un planner e ho deciso di utilizzarlo dividendolo per due settimane e quindi niente, cominciamo subito con la spesa e vi faccio vedere come mi sono organizzata Allora, questo è il planner settimanale acquistato all'Eurospin l'anno scorso, due anni fa, adesso non ricordo sono un bel po' di fogli, un bel po' già li ho usati perché in generale li ho usati come block notice l'avevo preso 4,99€ ed è appunto un planner settimanale io ho deciso di fare la spesa ogni due settimane, adesso che sono tornata al lavoro quindi riesco a spostarmi e andare all'Eurospin anche io perché in genere appunto ci andava Mario, io sono più di due mesi che non vado all'Eurospin e quindi ora dividerò qui a metà e poi dividerò pranzo e cena e pranzo e cena e l'ho imposto tutto e poi vi faccio vedere un esempio di come ho impostato o se no, facciamo un'altra cosa, siccome sicuramente poi vi farò vedere direttamente lo suo dalla spesa allora ho intenzione ad esempio di organizzare poi appunto in base, adesso guardo bene il volantino dell'Eurospin guardo bene anche quello che ho in freezer e andrò a organizzare che ne so ad esempio a pranzo sicuramente saranno tutti dei primi i giorni in cui magari io lavoro, primi più complicati, fra virgolette o comunque con una procedura più lunga tipo non so, pasta col minestrone o le lenticchie dico posso sempre prepararmi il giorno prima però sicuramente i giorni in cui sono a casa e sono libera lascerò queste procedure più lunghe invece i giorni magari in cui lavoro, non so, magari i risotti farò quello là pronto invece quando non lavoro quello lì proprio fatto da me non so se mi sono spiegata bene e stessa cosa per i secondi, magari i giorni in cui non lavoro farò delle cose più elaborate diciamo così, ma neanche più di tanto, nel senso non so un esempio, le cosce di pollo al forno con le patate ad esempio quindi ci vuole più tempo quando invece rientro da lavoro che torno a 8, 8 e mezza facciamo un'insalatona o cordon bleu spinacini o qualcosa di più pratico ecco questo intendo dire comunque adesso vado a preparare il planner appunto per due settimane riguardo bene la lista della spesa e poi vediamo insieme lo suo della spesa allora questo è il planner settimanale che alla fine come vi dicevo ho diviso in due settimane pranzo e cena, pranzo e cena, sopra ho segnato i giorni e ho fatto qui la lista della spesa dell'euro spin di oggi con le varie offerte, tutto quello che mi serve per questi pranzi e cena che non ho dentro e qui invece quello lì che prenderò, che mi serve comunque qui dal fruttivendolo nel mini market ecco di fiducia e questo invece che le andrò a comprare per la seconda settimana quindi passerò qui solo per questo ma è vicino casa quindi ci metto un attimo e eventualmente qualcos'altro che si aggiunge quindi bando alle ciance, è inutile che vi dico esattamente cosa mangeremo anche se potete fare un fermo immagine o comunque leggere ma non ve ne può fregar de meno perché ve lo dico in base appunto a quello che vi faccio vedere della spesa eccomi tornata dalla mia spesina questo è tutto 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 il mio bottino adesso li divido in reparti e vi faccio vedere che cosa ho comprato allora intanto ho dimenticato di dirvi che in totale ho speso 87 euro che devo dire per essere una spesa di due settimane è ottimo e poi volevo dire che di questi invece vi ho fatto le foto perché le abbiamo già mangiati quindi non li vedrete nella spesa e sono una confezione di questi tramezzini che li ho presi per me che sono questi tonno pomodori olive non li avevo mai presi e sono veramente buonissimi a Mario invece ho preso questi gamberetti salsa cocktail e verdure e un'altra confezione di tonno e maionese e poi ho preso anche una ciambellina di queste qui che adesso si trovano confezionate singolarmente allora nel reparto frutto e verdura dell'Eurospin ho comprato solo le cose che praticamente prendo sempre e comunque le trovo buone allora ho preso questi che sono dei pomodorini vengono appunto dalla Sicilia sono dei pomodorini datterini li utilizzo per le insalate appunto con la mia solida iceberg e con i miei scalogni piccolini questi qui che uso molto più delle cipolle anche perché la cipolla quando è troppo grossa la taglio poi magari ne uso solo un pezzo mi resta nel frigo poi la uso dopo una settimana e non va più bene invece questa possibilmente la posso utilizzare pure tutta quindi c'è meno spreco e devo dire che mi piacciono allora passiamo ai primi quindi ho comprato questi li farò domenica domani perché oggi è sabato ho comprato queste tagliatelle che sono pronte in 2-3 minuti quindi molto veloce tagliatelle all'uovo quelle lì fresche con i funghi quindi farò appunto le tagliatelle con i funghi e questo quindi se ne va già un pasto poi ho preso gli gnocchi di patate che è la confezione da un chilo e la scamorza affumicata che era in offerta quindi ci farò gli gnocchi alla sorrentina noi con un chilo ci andiamo due volte quindi io aprirò ad esempio il pacco e farò... che ne so faccio un esempio lunedì mezzo pacco di gnocchi e mezza scamorza affumicata e poi tipo il venerdì per dire o per dire il giovedì perché se non sbaglio c'è scritto tipo 3-4 giorni farò... cioè mangeremo di nuovo la stessa cosa perché mi resterà mezza pacco e mezza scamorza ok poi ho preso un pesto questo è il pesto al basilico senza aglio non l'ho mai preso ma ho visto che lo prendono in tanti dicono che è buono e quindi ho detto ma sì per quando torno da lavoro un... un... un passo ecco veloce è già pronto e poi ho preso i ravioli e i tortelloni questi sono i preferiti di Mario mentre questi invece sono i miei quindi anche questi per dei pranzi velocissimi perché devono cuocere sì e no 3-4 minuti ok poi ho preso le fettine questo è qui il petto di pollo che erano in offerta e ne ho preso una confezione sola che hanno scadenza il 30 maggio quindi molto lunga questa in genere per una cena comunque un secondo pratico e poi ho preso le ricottine anche queste che erano in offerta sempre per una cena le abbinerò agli spinaci cavolo ho dimenticato di comprare gli spinaci poi ho preso la feta greca questa è da 200 grammi però l'altra volta è venuta tantissimo fatta da sola nell'insalata quindi la dividerò e ci farò due cene poi ho preso le sottilette queste qui da un chilo che erano pure in offerta gli yogurt stavolta ho voluto prendere questi qui alla frutta con 0,1% di grassi per una merendina magari abbinati a un biscottino che adesso vi farò vedere poi ho preso le olive verdi e nere sono tagliate a rondelline sono due confezioni da 50 grammi mi hanno entusiasmato perché in genere le mangio solo io nelle insalate quindi anziché tenerle e lasciarle aperte così posso usarla e l'altra ho utilizzata utilizzata anche la settimana dopo e poi ho preso due di formaggio fresco spalmabile che questo ci facciamo o la tonno in filadelfia pranzo al volo o spalmata comunque sia mi viene un secondo e quindi una cena poi per quanto riguarda lo scatolame ho preso la passata di pomodoro che questa mi servirà per fare gli gnocchi alla sorrentina e anche la semplicissima pasta col sugo da mettere sul pesce comunque vediamo intanto me ne serviva una ma ho preso questa la confezione da due poi ho preso il mais da tre che era in offerta e i filetti di salmone questi qui che mi piacciono tantissimissimo sono quelli lì all'olio d'oliva mi piace tanto anche quello al naturale e anche questi erano in offerta ne ho presi due appunto per una cena veloce quando lavoro uno per me uno per Mario e poi ho preso questi dei trancetti di tonno all'olio d'oliva anche questi in offerta di questi ne ho sentito parlare benissimo e quindi ho detto ma si prendiamoli naturalmente tutti questi secondi che vedete che sia il pesce che sia non so il formaggio spalmabile la ricotta naturalmente tutti sono accompagnati dai contorni in genere abbino non so con qualcosa tipo al forno abbino le zucchine magari faccio tipo chips oppure un'insalata verde dipende appunto pure dal tempo che ho a disposizione per quanto invece riguarda i panificati ho preso questi panini per hamburger più che altro li ho presi per Mario comunque gli hamburger ce li ho già in congelatore quindi non c'è stato bisogno di comprarli e poi ho preso sia questi cracker con riso soffiato che è il pane di segale che lo utilizzo per da accompagnamento appunto alle cene altra piccola premessa scusate ragazzi ogni volta che stoppo vi faccio vedere qualcos'altro mi ricordo tante cose naturalmente io non le ho segnate che ne so cose che magari ho in freezer o ad esempio una sera voglio fare le uova con i piselli quindi i piselli già ce li ho le uova pure quindi avete capito più o meno com'è l'andazzo di questo planning settimanale poi io per ora mi sono organizzata così con foglio delle offerte a mano e in base a questo ho organizzato due settimane intanto vedo come mi trovo c'è già solo l'idea di farlo mi ha gasato tantissimo quindi intanto vedo come vi trovo e poi vi faccio sapere eventualmente posso anche cambiare o non cambiare allora ragazza avevo dimenticato una parte fondamentale i secondi c'è altri secondi allora c'era in offerta questo quindi filetti di merluzzo di alaska gratinati devo dire che questo è in assoluto il mio preferito che batte quello della decode della findus e della sigma che sono quelli che ho provato io ah e anche quello del conad quello del conad è buono pure però questo li batte e allora c'era questo con pomodoro e basilico e poi questo con potato e rosmarino che non l'ho preso mai allora in realtà questo è un fuori lista perché nella lista io avevo segnato solo questo quindi una volta segnato in settimana però questo ecco se sta nel freezer va bene anche più avanti e poi ho voluto prendere queste per questa sera che sono le pizze allora questa è quella che ho preso anche l'altra volta che è la pizza e quattro formaggi e mi è piaciuta tantissimo proprio mi sono innamorata di questa pizza quindi sono partita oggi di sabato proprio col puntiglio di prendermi questa pizza per stasera infatti queste non le ho messe per niente in freezer e poi invece per Mario ho preso questa che sono due pizze con mozzarella di bufara campana dop quindi queste si cuociano velocemente al forno lui l'altra volta invece aveva preso quelle lì ai funghi quindi questa è la prima volta però comunque sia devo dire che per il prezzo che hanno sono veramente buonissime per quanto invece riguarda colazioni e varie ho preso due pacchi di muesli erano anche questi in offerta allora questo è il muesli croccante con cioccolato fondente e nocciole che ho preso l'altra volta e mi è piaciuto molto e ho voluto provare anche questo che ha cocco banana uva passa mela mirtilli rossi e quindi ho detto ma sì proviamolo poi c'erano questi snack che anche questi avete già visto questi in un'altra versione che erano in offerta quindi tutta questa linea così con le fibre era tutto in offerta e le ho voluti prendere per degli spuntini per degli snack anche di mezza mattina e poi ho preso i wafer questi qui e la nocciola che sono i preferiti di Mario ho preso una confezione di queste piccole diciamo confezioni piccole monoporzioni diciamo così e poi ho preso invece uno di questi qua grandi e infine ho preso due pacchi di questi che sono due insieme sono i biscotti cereali classici anche questi fonte di fibre perché allora visto che quando vado al lavoro con la mascherina io come sapete prima mi portavo sempre il mio spuntinello e ora invece mascherina guanti disinfetta beh vi mangia mi viene veramente scomodo e quindi preferisco non toccare non toccare nulla ecco anche perché dico sono sempre con le mani sul disinfettante sono sempre con le mani lavate con acqua e sapone però sono più tranquilla ecco se non mangio niente quindi prediligo una colazione ad esempio con appunto latte e muesli comunque qualcosina di più abbondante quando devo andare al lavoro e invece nei giorni liberi o per merenda posso fare ad esempio colazione una tazza di tè o comunque una tisana con un paio di biscotti e poi metà mattinata posso mangiare tranquillamente qualcosa di queste o la frutta che anzi ho comprato la frutta fresca tipo le mele le pere e quindi ecco riesco a spezzare di più allora avevo dimenticato questo che è lo zafferano della don jerez sono tre buste con questo ci farò il risotto quindi siccome le avevo terminate tutti le ho presi ma essendo tre buste io il risotto lo potrò fare con lo zafferano sennò una volta al mese due quindi questo mi durerà per tre mesi poi ho preso il classico cotone idrofilo che utilizzo per thomas e questo detersivo che non prendevo da tantissimo tempo visto che hanno cambiato la confezione del pacco mi trovo benissimo soprattutto per i capi scuri ed è quello lì appunto con essenza di argan e sgrassatore incorporato ho voluto provare questo che è igienizzante con bicarbonato ed era una confezione grandissima da tre litri anche questo era in offerta e poi ho preso il mio classico pacco di tovaglioli e la mia classica carta igienica che è la mia preferita sull'immagine della carta igienica io vi ringrazio per aver guardato il video fatemi sapere cosa ne pensate di questo menu bisettimanale che ho fatto e io a mio tempo vi farò sapere come mi sto trovando